Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Del Mastro, lei è fuori dal governo per cui il tema della sopravvivenza o meno del governo le importa punto. Fiano dice, stiamo parlando di diritti. Guardi, in verità c'è un equivoco di fondo di natura culturale, fra noi e la sinistra, che segnala una delle distinzioni per cui è normale che esistano ancora centrodestra e centrosinistra. Per loro il conseguimento della cittadinanza è una delle tappe delle integrazioni, per noi è il sigillo finale del percorso dell'integrazione. Dobbiamo sgombrare il campo da un equivoco. Ciò che accade a Sonni, che io conosco e che anche saluto, nulla c'entra con lo Ius Scol. Sonni avrebbe diritto ad essere cittadino italiano, farebbe bene ad andare a prendere quel parruccone, quel burocrato che dopo 18 anni da che abbia il diritto non gli ha ancora risposto, ma nulla c'entra con lo Ius Scol. Lo Ius Scol noi lo contestiamo nel merito. Possibile che un cittadino italiano abbia l'obbligo formativo di anni 10 per essere quindi ritenuto un cittadino completamente formato e viceversa la cittadinanza si conseguisca solo per il tramite di un percorso scolastico di 5 anni? Non le appare anche a lei vagamente stridente? E ancora, che succede se conferiamo la cittadinanza al minore su istanza di uno solo dei due genitori, che è l'altro grande problema di questa proposta, se poi la famiglia rientra nello stato d'origine e non prevede la doppia cittadinanza, quel minore sarà straniero in casa sua? E ancora, per quale motivo, se non per un tasso di talebanesimo ideologico, a nodo nostro di giudicare indigesto, uno solo dei due genitori può fare l'istanza? Quasi a configurare una sorta di sequestro internazionale di cittadinanza in nome per conto di uno solo dei due genitori? Una domanda secca, io la ringrazio, intanto la saluto e le volevo chiedere quanti genitori, tra i suoi due genitori, le hanno fatto istanza per chiedere la sua cittadinanza? Così, per ridere diciamo, come da solo può capire? Guardi, nessuno, sono... Sono, sono, io ho un ottimo rapporto con lei, nessuno perché sono italiano. Eh, pure io, quindi qua il problema è proprio definire cosa può essere italiano. Lei ha parlato di un percorso di cui la fine è la cittadinanza, comparandolo al percorso che fanno i cittadini e i bambini e le bambine figlie di italiani. Il problema è che i dieci anni di scuola dell'obbligo che formano il bambino, il cittadino, ok, all'interno della società, non definiscono anche l'acquisizione di cittadinanza per i figli di italiani. Quindi, io sono d'accordo con lei, secondo me, non ce ne vorrebbero... No, sono d'accordo con te, sto dicendo di un'altra cosa. Secondo me, non ce ne vorrebbero dieci anni di scuola, ce ne vorrebbero venti obbligatori. Però a questo non c'entra nulla con la cittadinanza. Qua si parla di, sì sì, assolutamente stiamo messi male del mastro, lo sa pure lei, che ci vorrebbero più anni obbligatori. Il problema è che qua il punto sta nel decidere cosa vuol dire essere cittadino. Cioè, dopo quanto una persona, come dice per esempio la legge sulle scuole, che lei ha ricordato bene, non mi riguarda perché al momento non è retroattiva, ok, quindi non si prevede la retroattività della legge, però fino a che punto un bambino che, come dice la legge, nasce in Italia o arriva qui entro il dodicesimo anno di età e compie un ciclo di studi completo in Italia, fino a che punto rimane ancora straniero? Allora, del mastro rapidamente che poi devo coinvolgere gli altri miei due ospiti. No, ripeto, trovo, io comprendo quello che dice Sonni, ma il tema è se io per essere completamente formato italiano con una famiglia che peraltro mi trasmette tendenzialmente un patrimonio di valori, di idee condivise, di conoscenza di questa nazione, per essere un cittadino completamente formato, un obbligo giuridico, un obbligo di formazione di dieci anni, evidentemente troppo poco quello di cinque per lo straniero. Fratelli d'Italia è pronta discutere per gli stranieri che si versino in queste condizioni e che compiano i 18 anni di età e che avanzino l'istanza di una procedura assolutamente snella, anche sganciata dal reddito ovviamente, perché questa è la normalità. Il resto a noi puzza vagamente di un ideologismo immigrazionista che non è condivisibile. Sganciata dal reddito, eh? Allora, quello ce lo segnavo anche perché riguarda anche per i comunitari. Sulla questione minori, solo vado velocemente, però devo sentire da un sacco, rapidamente. Sulla questione minori, il ricongiungimento familiare in Italia non prevede il ricongiungimento da parte del bambino verso il genitore, quindi se il genitore viene espulso, la legge italiana attualmente non decide che il genitore non se ne può andare se il bambino ha cittadinanza italiana. Questa è una piccola imprecisione che viene data spesso. Allora, Don Renato...